Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Trash Test. Oggi giocheremo a Yo-Kai Secret. Bene, potremmo già avere un problema. Perfetto, alziamo il volume. Quello si senta. E partiamo. E' uno pieno di fiori di ciliegio. Stavo leggendo. Un giorno. Sto leggendo. E' un mondo perso i suoi colori. Per trovare la ragione di questo e sanare il mondo, tu parti per il viaggio. Partiamo. Mistero di Miao Miao, veramente aggressivo in apparenza, sembra... Bene, affrontiamo il nostro primo livello. Come si gioca, però? Ah... Ah... Capisco. Quindi... Bisogna praticamente mettere in fila i colori. Bisogna essere anche veloce a modo di fare. Ottimo. E' tardi per dire che sono dal tonico? No. Dai, 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 dai. Siamo fortissimi. Oddio. 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 Ad sixteen. Oddio. . Grazie di avermi salvato, non ci si ricorda cosa è successo, dobbiamo salvare i yokai Ah, inizia a complicarsi la cosa Ah, abbiamo tre colori adesso Speriamo da bene No Potentissimi Sempre più difficile Un altro Ah, è questo, questo qua Vai Stiamo avvicinando Ecco il livello I miei occhi, i miei occhi Ah, scusi signorina Andiamo, possiamo andare avanti Signorina No 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 colorato metà del mondo quindi per ora ci possiamo ritenere soddisfatti questo gioco lo potete trovare su steam alla modica cifra di un euro e mezzo e se vi può interessare c'è anche contenuto per adulti